Le multe sono un ottimo deterrente perché con lo street control è diminuito il caos in città. Ne è convinto l'assessore alla mobilità del comune di Salerno, Mimmo De Maio, che ribadisce l'impegno dell'amministrazione per scongiurare gli ingorghi della viabilità cittadina. Stiamo registrando un significativo miglioramento sul sistema dei flussi della mobilità della nostra città. Credo che sia anche conseguenza un po' dell'azione messa in capa da street control. Registriamo che il fenomeno della doppia fila sta iniziando a contenersi significativamente rispetto ai dati che registrevamo fino a qualche mese fa. Non solo traffico, l'esponente della Giunta ha assicurato che nel giro di un anno si potrà ultimare il cantiere per la messa in sicurezza di Piazza della Libertà e allo stesso tempo definire il corpo di fabbrica del Crescent, passo fondamentale per la riqualificazione dell'intera area di Santa Teresa. I lavori stanno andando avanti, abbiamo chiesto anche di tenere sul cantiere quanto più forza lavoro è possibile. Credo che la data e il tempo che prima richiamavo di 14 mesi potrà essere rispettato. Quindi immagino nel giro di un anno poter portare alla conclusione i lavori di messa in sicurezza della piazza. Per quanto riguarda invece l'edificio Crescent, i lavori stanno procedendo. Io credo che riusciremo a tenere insieme l'auspicio proprio a questo, la conclusione del lavoro del corpo di fabbrica con quello della piazza che significa poi riaprire fondamentalmente anche l'insieme delle attività nel sottopiazza, il prolungamento del lungomare e la definitiva riqualificazione e rilancio di tutta la zona di Santa Teresa. Grazie a tutti.